La garanzia estesa McLaren, lanciata nel 2014, ora può essere rinnovata o destesa fino al dodicesimo anno di vita della vettura. La valorizzazione dell'usato riconosce il crescente numero di vetture McLaren su strada, con oltre 3.000 vetture che oggi hanno superato il loro terzo compleanno, così come il desiderio di molti proprietari di mantenere la proprietà della loro automobile. La politica della garanzia, che in precedenza permetteva di estendere la garanzia solo sino al settimo compleanno della vettura, copre la maggior parte dei componenti montati in fabbrica, offrendo ai clienti la tranquillità di sapere che la loro McLaren continuerà ad essere affidabile e performante alla stessa maniera di quando fu messa su strada per la prima volta. La garanzia estesa McLaren, disponibile per entrambe le gambe Sports e Super Series, offre una importante serie di benefici, tra cui il chilometraggio illimitato. Assistenza stradali per i specifici mercati viene garantita in caso di sinistra la sostituzione delle parti con ricambi McLaren Genuine Parts, che saranno montati dai preparatissimi tecnici McLaren, che hanno avuto una formazione completa. Questa offerta di estensione e garanzia è disponibile per tutte le immatricolazioni e per tutte le vetture esistenti e usate approvati McLaren, che hanno percorso meno di 100.000 miglia e sono di proprietà da almeno 90 giorni. Carl Whip, direttore post vendita di McLaren Automotive, ha commentato I proprietari vogliono essere certi che la loro auto potrà beneficiare della stessa cura con la quale è stata costruita e vogliono continuare a godere della loro McLaren quotidianamente senza problemi. Abbiamo lanciato la Extended Warranty, la garanzia estesa per i nostri clienti che con questa ulteriore estensione del periodo di copertura continueranno a fruire delle loro vetture con massima tranquillità, sino al dodicesimo compleanno della vettura. La McLaren Extended Warranty può essere acquistata direttamente presso i rivenditori McLaren, è possibile acquistare l'estensione di garanzia in qualsiasi momento della vita del veicolo, ma prima del decimo anniversario e la si può acquistare solamente per periodi di 12 o 24 mesi alla volta.